Nel trattare la parabola sui libri di testo c'è una categoria di esercizi che consiste nel determinare l'equazione di una parabola che rispetti certi vincoli assegnati. Il caso più frequente è quello in cui occorre trovare l'equazione della parabola passante per tre punti di cui vengono assegnate le coordinate. In questo video mostreremo tre parametrizzazioni alternative dell'equazione della parabola che possono rendere molto più semplice la risoluzione di questi esercizi. Queste qui elencate sono le tre parametrizzazioni della parabola. Hanno in comune il fatto di avere tutte e tre tre parametri. La prima ha parametri A, B e C, la seconda K, T e U e la terza K, X1 e X2. Nelle slide successive spiegheremo ognuna di queste parametrizzazioni e spiegheremo anche cosa indicano i loro tre parametri. La parametrizzazione più nota è descritta dall'equazione Y uguale a X alla seconda più BX più C dove il parametro A rappresenta l'apertura della parabola C rappresenta l'ordinata del punto di intersezione con l'asse delle ordinate e B determina insieme ad A la posizione dell'asse di simmetria. La prima parametrizzazione alternativa descrive una qualunque parabola come trasformata dalla parabola base Y uguale a X alla seconda e l'equazione della parabola si scrive così Y uguale K che moltiplica X meno T alla seconda più U dove K rappresenta il fattore di dilatazione T rappresenta il termine di traslazione orizzontale sull'asse X e U rappresenta il termine di traslazione verticale sull'asse Y Questa è la seconda parametrizzazione alternativa cioè Y uguale K X meno X1 X meno X2 dove K rappresenta il fattore di dilatazione mentre X1 e X2 rappresentano le ascisse del punto di intersezione con l'asse delle X Questa parametrizzazione viene usata per descrivere la parabola partendo dai suoi punti di intersezione lungo l'asse delle ascisse infatti viene usata ad esempio quando in un esercizio si hanno tre punti e due di questi si trovano sull'asse delle ascisse In entrambe le parametrizzazioni alternative che abbiamo appena visto il termine K coincide con il termine A nella parametrizzazione più nota questo perché rappresenta in entrambe il fattore di dilatazione rispetto alla parabola base ovvero rispetto alla parabola Y uguale a X alla seconda e perché sono entrambe il coefficiente del termine in secondo grado ovvero X alla seconda La parabola base è descritta dall'equazione Y uguale X alla seconda Dunque per ogni valore che noi assegniamo ad X Y sarà il suo rispettivo quadrato Possiamo vedere questo anche dal grafico della parabola base dove spostandoci per esempio a destra di 2 o a sinistra di 2 ci alzeremo verso l'altro di 4 questo perché 2 alla seconda fa 4 In questo primo esercizio devo determinare l'equazione della parabola passante per i punti A con coordinate meno 1 e 2 B 2 e meno 4 e C 3 e meno 2 Per determinare l'equazione sostituisco le coordinate dei tre punti assegnati alle variabili X e Y nell'equazione ricavando un sistema di tre equazioni nelle tre incognite A, B e C Non mi soffermo sul procedimento risolutivo che è noto e spiegato in tutti i testi scolastici Una volta ottenuti i valori di A, B e C Per rappresentare velocemente il grafico della parabola posso passare dalla prima parametrizzazione alla seconda con la regola di completamento del quadrato Cioè, scrivo il termine in X moltiplicando e dividendo per 2 ovvero evidenziandolo come se fosse il doppio prodotto tra la variabile X e tre mezzi Quindi, addizione e sottraggo il quadrato di questo valore prima ancora di riportare il termine noto meno 2 Ora posso considerare i primi tre termini come quelli dello sviluppo del quadrato di binomio X meno tre mezzi al quadrato Infine, sommo i due termini numerici rimanenti ottenendo meno 17 quarti Ottengo così Y uguale X meno tre mezzi alla seconda meno 17 quarti dove tre mezzi e 17 quarti indicano il valore della traslazione orizzontale di quella verticale di questa parabola rispetto a quella base e, in particolare, corrispondono alle coordinate del vertice Questa è la rappresentazione grafica dell'equazione finale dove ho una dilatazione pari a 1 una traslazione orizzontale verso destra di tre mezzi e una traslazione verticale verso il basso di 17 quarti Ora vedremo degli altri esercizi dove non è necessario risolvere un sistema di tre equazioni intraincognite Si tratta di sfruttare alcune configurazioni particolari dei punti assegnati In alcuni casi basterà soltanto fare un ragionamento grafico In qualche altro occorrerà risolvere una sola equazione che comunque è sempre meglio che risolvere un sistema di tre equazioni In questo esercizio dobbiamo determinare la parabola avente il vertice in A e passante per i punti B e C Ho tre punti con coordinate per A, 2 e 2 B, meno 2 e 0 e C, 6 e 0 Posizionando i punti sul piano cartesiano noto che il punto A è a metà tra B e C rispetto all'asse X i quali si trovano alla stessa altezza quindi riconosco A come il vertice della parabola Avendo le coordinate del vertice posso anche trovare le traslazioni rispetto alla parabola base poiché le traslazioni sono dei movimenti del vertice della parabola Dato che le coordinate del punto A che è il nostro vertice sono 2 e 2 pongo come valore di T e di U il numero 2 K invece la trovo osservando il grafico Nella parabola base se mi muovo verso destra o verso sinistra di 4 unità salgo di 16 In questo grafico invece scendo solamente di 2 Dato che 2 è un ottavo di 16 K sarà un ottavo Invece per trovare la concavità della parabola osservo che il vertice è sopra gli altri due punti L'orientamento della parabola sarà quindi negativo e la funzione finale sarà y uguale meno un ottavo che moltiplica x meno 2 alla seconda più 2 Esercizio numero 3 Determina la parabola avendo il vertice in V e passante per il punto A Il vertice ha coordinate 2 e 2 e il punto A ha coordinate 4 e 3 Dato che ho il vertice uso la parametrizzazione y uguale K che moltiplica x meno t alla seconda più U In questa parametrizzazione T e U rappresentano rispettivamente i valori di traslazione orizzontale e verticale del vertice Dopo aver riportato i punti sul grafico ed aver tracciato la parabola guardo la traslazione del vertice È traslato di due unità a destra che corrisponde alla T e di due unità in alto che corrisponde alla U Quindi sostituisco T e U con questi due valori E ne risulta y uguale K che moltiplica x meno 2 alla seconda più 2 Per trovare invece il valore di K confronto il mio grafico con il grafico della parabola base Nel mio caso spostandosi di due unità orizzontalmente rispetto al vertice salgo di 1 mentre nella parabola base si sale di 4 dato che 1 è un quarto di 4 la dilatazione di un quarto La parabola risulta quindi essere y uguale un quarto x meno 2 alla seconda più 2 Questo esercizio ci dice determina l'equazione della parabola che ha fuoco f meno 4 meno 6 e per direttrice la retta di equazione y uguale meno 10 Dopo aver rappresentato il fuoco e la direttrice sul grafico applichiamo la definizione di parabola secondo cui essa è il luogo dei punti che sono equidistanti dalla direttrice e dal fuoco La prima informazione che abbiamo è che la parabola avrà la concavità verso l'alto poiché la direttrice si trova al di sotto rispetto al fuoco Dopodiché possiamo dire che il vertice si trova da scissa meno 4 perché il fuoco si trova da scissa meno 4 e siccome il fuoco si trova ordinata meno 6 e la direttrice ordinata meno 10 il vertice si troverà nel punto medio lungo il segmento verticale che unisce il fuoco alla direttrice cioè ordinata meno 8 sempre seguendo la definizione di parabola Ora che sappiamo il vertice possiamo applicare la parametritazione applicando le traslazioni del vertice possiamo dire che t è uguale a meno 4 e u è uguale a meno 8 La k la troviamo sapendo che la distanza tra il fuoco e la direttrice è di 4 unità Quando la parabola andrà a destra di 4 arriverà all'altezza del fuoco In questo modo la parabola andando a destra di 4 dal vertice si alzerà di 2 e sapendo che nella parabola base si fa a destra di 4 si sale di 16 facendo il confronto 2 è esattamente un ottavo di 16 e la direttazione sarà quindi di un ottavo In questo modo troviamo l'equazione della parabola che risulta essere y uguale un ottavo x più 4 alla seconda meno 8 Esercizio numero 5 determina l'equazione della parabola passando i presi con i punti punto A meno 1 è 0 punto B 0 1 punto C 3 0 Dopo aver trasfitto la parabola passante per questi 3 punti ho utilizzato la parametrizzazione y uguale a k x-x1 x-x2 perché 2 dei 3 punti che avevo si trovavano sull'asse delle ascisse Ho poi sostituito x1 e x2 con le ascisse dei punti di intersezione con l'asse delle x Per trovare k invece ho sostituito x e y con le coordinate del punto B ovvero con le coordinate del punto che non si trova sull'asse delle ascisse quindi 1 uguale a k 0 più 1 0 meno 3 risolvendo questa equazione ho trovato che k risultava essere meno 1 terzo quindi l'equazione della parabola è y uguale a meno 1 terzo x più 1 x meno 3 Esercizio numero 6 determina l'equazione della parabola passando i presi con i punti punto A 4 e 1 punto B 6 e 4 punto C 0 e 1 Una volta rappresentati questi punti sul grafico si può vedere che il punto A e il punto C si trovano sulla stessa altezza il che vuol dire che il vertice lo troverò nell'asse passato per il punto medio ovvero per il punto che si trova in mezzo a questi due punti Si può inoltre vedere che questi due punti non si trovano sull'asse della ascisse ma sono traslati in alto di 1 Per poter utilizzare comunque questa parametrizazione devo immaginare di traslare tutta la parabola in basso di 1 in modo che questi due punti si trovano sull'asse della ascisse Una volta fatto ciò però devo aggiungere un P1 alla fine dell'equazione per far intendere che in realtà questi due punti non sono sull'asse della ascisse ma sono più in alto di 1 Per quanto riguarda K invece l'ho capito dal grafico questo perché in una parabola base spostandosi di 2 a destra o a sinistra si sale di 4 unità mentre in questo caso si sale solo di 1 quindi la dilatazione è di 1 quarto rispetto a quella della parabola base L'equazione della parabola quindi è 1 quarto x meno 2 alla seconda Grazie per l'attenzione Speriamo che questo video vi sia stato utile Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione